Questa la devo clippare, no, hai tolto la trappola Perchè non mi ho messo il pompa? Perchè lasciano la porta aperta? Io mi chiedo What? Mi ha fatto rigenerare nel cielo? Va bene What the fuck is this? Ah, qui ci sono le tre trappole, dove lo spawn? Perchè ti vuoi far fare le tibaci? Non lo so Forse devo recuperare il suo record Ma se fu creativa non è che se favo un sacco di kill fa il record Ti ho preso? No No, guarda quello giù 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 in alto Non ho capito che mi viene da parte, ma non lo farai Guarda, vediamo, vediamo, vediamo No, no, dai, no 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 Come va l'altro non ti ho preso? Le ho rotte, le ho rotte, le ho rotte, le ho rotte Le ho rotte, 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 le non basta non basta non basta non basta non basta la devi smettere veramente la devi smettere SMETTI LA che bella che bella che bella che bella ma no ti ho squagliato ho fatto un sacco di headshot ma che folle questo è da youtube e io ho oltre estinto dai dai ce la puoi fare ce la puoi fare ce la puoi fare ma idiota sei molto devo dire che i bloom delle armi sono molto forti che falle che falle che falle guanta posso salvare dell'incazzamento mi dà non mi sto sparando no 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 bro ti ho sparato ti ho sparato io devo andare a tappare una maestra posso andare un hit ed ero morto ok ok provrò circa 10 minuti o andarmene perché mi aspetta o la destra mezzo su support 30 ovviamente o se non mi ha un amico come spammela in vite presto presto presto